Musica Continua ad Ailano il piccolo comune dell'Alto Casertano, il tradizionale falò di San Giovanni, padrono della cittadina che viene festeggiato in dicembre con la consueta messa e la processione per le strade del paese. La tradizione viene portata avanti anno dopo anno grazie all'impegno di molti. Quindi alcuni dicono che il falò sia nato anche per riscaldare la popolazione durante gli inverni rigidi e dare all'opportunità alle famiglie più povere di prendere un po' di braccia e portarla a casa. Insomma le leggende sono tante intorno a questo evento secolare ma molto noto non solo in Campania. Il fuoco, secondo la leggenda, sarà vivo anche nei prossimi giorni con la speranza da parte di tutti di farlo durare almeno fino al 31 dicembre. Da Ailano è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it